Un percorso artistico che celebra a pochi giorni dall'inaugurazione di Lucca Comics & Games 2023 l'autore del Signore degli Anelli Tolkien a 50 anni dalla sua scomparsa e l'illustratore Howard Shekin. Una mostra realizzata da Lucca Comics & Games insieme al Comune di Lucca in collaborazione con la Fondazione Banca del Monte e la Fondazione Lucca Sviluppo. A tagliare il nastro c'erano il Sindaco di Lucca Mario Pardini, il Presidente della Fondazione Banca del Monte Andrea Palestini, l'amministratore unico di Lucca Crea Nicola Lucchesi e il direttore di Lucca Comics & Games Emanuele Vietina. Il percorso comincia con la parte dedicata al Padre della Terra di Mezzo, una mostra che sintetizza 50 anni di illustrazioni, narrativa e giochi con una serie di opere dedicate all'autore. La parte di Howard Shekin invece è un percorso artistico su tre sezioni, la Silver Age, la Golden Age e la Dark Age. La sezione Silver Age ripercorre non solo temporalmente ma anche concettualmente i primi lavori di Shekin. La Golden Age ci introduce all'universo dei supereroi secondo l'autore. Nella sezione Dark Age sono celebrati i capolavori senza tempo, alla fine il visitatore ha la sensazione di trovarsi di fronte ad un'analisi spietata del mondo dei fumetti e di coloro che ne sono protagonisti.